Sono Stefano Farina e la mia famiglia è proprietaria della fattoria Le Bocce di Panzano. Le mie più grandi soddisfazioni sono state poter ricevere premi importanti nel nome di mio padre. E' una cosa che ho imparato anche che è un proverbio contadino, che è importante che lui si dieda a fare, che lo migliori. Magari non sarà una cosa perfetta, però l'importante è che lo restituisca migliorato. Nell'86 sono arrivato a Panzano, ho stretto trapporti di amicizia che io direi unici con le persone di Panzano. Ho incontrato persone vere, persone autentiche, leali, che mi hanno sempre aiutato. E poi anche se non ci si vedeva per anni, ma ognuno sapeva che l'altro c'era, era disponibile. Quindi do grande importanza al binomio azienda e territorio. Noi dobbiamo puntare a fare il meglio che possiamo. Poi magari non sarà la perfezione, ma con la saggezza contadina dobbiamo puntare a cedere. Quando riceviamo qualcosa di ridarla con qualcosa in più. E questo è il mio obiettivo.